Salve a tutti ragazzi e si conclude la prima giornata di questo mondiale col girone H dove ci sono state due sorprese perché la prima sorpresa, la prima partita era Colombia-Giappone, con grande sorpresa il Giappone se la porta a casa, si porta a casa questi tre punti per 2 a 1 ragazzi quindi andiamo subito a vedere i gol, al sesto minuto Kagawa segna su calcio di rigore e viene espulso della Colombia, viene espulso Sanchez ma la Colombia non ci sta e riesce a pareggiare al 39esimo con Kintero, poi nel secondo tempo però il Giappone riesce a sfruttare la sua superiorità numerica e passa in vantaggio al 73esimo con Osaka su assist di Honda ragazzi, quindi questo Giappone a grande sorpresa perché credo che la Colombia fosse favorita e si porta a casa questi tre punti, però non è finita qui perché l'altra partita che si giocava tra Polonia e Senegal ha visto un'altra sorpresa e cioè il Senegal vincere con lo stesso risultato per 2 a 1 ragazzi, il Senegal che si porta in vantaggio con un autorete di Cionec al 37esimo e dopo va a raddoppio con Niang, praticamente la Polonia si è rovinata da sola tra un autogol e il secondo gol praticamente Niang era uscito fuori dal campo per un problema ed è rientrato quando la palla era circa sulla metà campo tre quarti della difesa del Senegal, col palla della Polonia tra l'altro, la Polonia fa un retropassaggio sbagliatissimo Niang ne approfitta, corre di velocità essendo molto più veloce, tra l'altro il difensore forse neanche si era accorto che stava arrivando a così velocità e riesce a superare sia il difensore che il portiere e segna facile facile a porta libera ragazzi quindi anche qui un'altra sorpresa, però io dico che il Senegal non è poi così tanto da sottovalutare perché ha ottimi giocatori come i due difensori centrali, Koulibaly, Sané, ma c'è anche Mané, il nostro Niang quindi non è poi una squadra così scarsa ma ha ottimi giocatori però detto questo, due sorprese perché la Colombia e la Polonia erano quelle, credo che, favorite per il passaggio del turno ma adesso è tutto... si dovrà vedere nelle prossime partite cosa succederà ma oggi siamo Giappone e Senegal a tre punti, Colombia e Polonia entrambi a zero con questo si conclude questo video del Giro NH ed è la prima partita, la prima giornata dei mondiali ora vedremo Russia-Egitto, cosa succederà per ricominciare le partite con le seconde giornate quindi un saluto a tutti dal vostro Francesco Nellazzurro e ditemi comunque cosa ne pensate nei commenti e continuate a iscrivervi ragazzi un saluto a tutti di nuovo e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi